E eccoci qui con le mie palle. L'altra volta li avevo lasciato a questo livello. Come potete vedere in questa sezione ci sta quella macchina che quando si sentiva la palla dentro te la sdoppiando le mie palle più piccole ed è una cosa che non mi piace molto perché le mie palle le prendo che siano grosse e più forti che ma questo ti permette di avere delle palle extra con cui giocare se vuoi fare danno lo sdoppiatore di palle è utile specie in questo gioco. Come si dice se rimani a corto di palle la soluzione è moltiplicabile e presi in ma niente non si sta esaurendo. Credo proprio che dovrò in qualche modo cercare di... Ecco mi è rimasta una sola palla. Non devo fare molta attenzione se prendo questa faccio la fine del mostruoso. Ma sono chiamata proprio. Vabbè vediamo un po' di riuscire a mandare la palla dentro... Ah, il triple ball. Bene. Ho recuperato. Bene, anche il magnete. Notate che in questo game il magnete e il triple ball è quello che esce più spesso. Senza contare della palla pazza. Che se ne va dove cazzo mi pare. E' un casino controlla. Infatti è quella che più facilmente si perde. E sono rimasto con due palle. Ma non c'è problema. Palla pazza e moltiplicatore. Il terreno del gioco sarà pieno di palle. Non fa niente se ce ne sono così tante. Cerco di controllarle. E' molto concitato questo gameplay. E' molto concitato. Ma per fortuna sono riuscito a raggiungere la fine. Ok, il gioco si fa più interessante. La vedete quella palla scura su questi blocchi di cristallo? E' il nuovo effetto, la nuova potenzialità di palla. Abbiamo visto quella mitragliatrice, quella in fuoco. Questa è chiamata palla d'acciaio. Volevi sapere che cosa fa? Appena la sblocco ve lo faccio vedere. E' la classica palla che rompe tutto. Come notate ci sono delle palline più piccole all'interno della mappa. Una volta che quelle palline... Ah bene, ho lanciato i lancianissimi. che si perde nell'istante in cui prendi un altro gadget. L'hai visto quella pallina piccola? Appena l'ho colpita è diventata della misura. Via! C'è il senso che le palle piccole appena entri in contatto con me diventano palle grosse. Ecco la palla gigante. E' una gigantesca palla d'acciaio. che fa un casino e distrugge tutto. Oh no, che bello. Ho preso anche la catena degli eccessi. E' la palla più forte di tutte. E' una palla che rompe tutto. Come rompe quella palla non rompe nessuna. Nemmeno io rompo tanto. Avere quella palla in gioco significa aver vinto la partita. C'è un solo problema di sta palla. E' lenta di male. Però fa un buon lavoro di distruzione di massi. Se quella palla... Eh, meno male che è arrivato il torpedo. Così almeno posso tenere in gameplay velocemente. Voilà. Allora facciamo il calcolo. Palle mitragliatrici. Palle esplosive. Palle d'acciaio. Come vede questo gioco è pieno di palle. E adesso sarà divertente. Coltando questi cannoncini con la palla sparano. E distruggono il bersaglio per i punti. Cosa pensate che succederà? Se... La palla entra in il loop intorno a questi cannoncini. Spareranno da tutte le parti. Colpiranno quelli sotto. E alla volta colpiranno quelli ai lati. Vediamo un po' se riesco a calcadere. Benissimo. È caduto il cannoncito. E adesso vengono qui in una scelta. E adesso... Cazzo. Ho perso il lanciamissile. Vabbè. Mi ha finito del massimo. Questo qui fa un devasto che fa paura. No no. Non lo vedo. Voglio consumarmi completamente del massimo. E' il modo più rapido di finire il quadro. Il livello. La situazione si fa complicata adesso. Non tanto. Vedete? Invece sono un sacco di palline piccole. Non vedo l'ora che entrino in contatto con la mia asta. Così diventano palle belle piene. Ah. Naturalmente. Volevo dirvi che... Ogni riferimento... Ha... Doppi sensi oppure... Sottigliezze sessuali. E' puramente voluto. Non casuale. Un gioco in cui ci sono le palle. E' un'asta. E' sottinteso che... E' fare riferimento a qualcosa di... Sessuale. anche se un magnete sulle palle non è che... bene, mettiamo la tazza e questa se io non la vedo subito, infatti vediamo se riesco a sbloccare qualcosa di complicato qualcosa di utile... il tor... il lanciamissi, bene, questo era quello che ci voleva ora posso fare un devasto senza precedenti se mi danno il tento di distruggere perché non vuole che essi... se ne entro e sparo le palle finiscono tutto e poi riporto beh, non è andata male... passiamo a livello successivo ah, ora ci sta il muro della morte... vedete quei teschi sopra il muro? beh, immaginate che succede se ne becco uno con l'asta sono bombe... appena ne prendi uno muori... cioè perdi una vita immaginate che succede se la palla cade il perpendicolare con uno di questi teschi per prendere la palla perdo la vita... se non prendo la palla perdo la vita... diventerà un vero bordello ora, con tutte queste frecce non si capirà un cazzo... la palla continuerà a fare un rip continuo finché, a fuori di passare, non distruggerà quelle frecce ma è una fortuna, il torpedo è riuscito a... liberarmi da tutti i teschi esplosivi un triple ball adesso... è quello che ci vuole... un altro triple ball... aiuta... penso che questo livello lo fin... ancora un altro... eeeh... e ho tesori in maschita... benissimo... non potevo concludere degnamente meglio la partita... penso che dopo un livello 12 mi fermerò... anche se ho notato che ci sta... due palle esplosive... quelle saranno divertenti se le piacciono tutte e due... ok... la prima è scesa... ora che è scesa la palla... si comincia a fare danno... avrei preferito una palla... ma adesso tengo sia la spawn... e scusi perché la spawn... e l'anitrice... quindi troveranno che ci sarà un sacco di casino adesso... senta contare che se ora prendo un moltiplicatore... le cose diventeranno molto più incasinato... e nel finale... un po' di erezione... aiutare... che culo... una metà in due... un'altra catena... penso che salva... il mando della palla... la volta... mi sembra che questo livello è finito veloce... spero che mi sia piaciuto... perché si continua ancora... la prossima volta...